Lucky Explorer, il gusto della libertà, vi offre... Tu hai molto talento. Sono uno street dancer. Breakdance, stasera alle 22.30, per una serata a tutto ritmo, su audio. Pier Bonnet, e sei meravigliosamente libero. Pier Bonnet, gioielli per il tuo tempo. Ustioni? Mercuro-cromo. Punture di insetti? Mercuro-cromo. Ferite superficiali? Mercuro-cromo, disinfettante a gocce, agisce efficacemente. E non brucia. Mercuro-cromo, la goccia rossa per il pronto soccorso. Leggere attentamente le avvertenze. Secondo voi, cosa ci potrà salvare da questa era tecnologica? L'espressività? L'immaginazione? Ricominciamo a comunicare. Basta un foglio di carta, una matita... e visual game. Gioca, giocate. Ad esempio. Io disegno un dito e tu indovini. Indovini che cosa? Che tra moglie e marito non devi mettere il chiaro, no? Quindi gioca, 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 perché la vita è un gioco. Dianz, veste di luce, modella e scolpisce le gambe. Dianz, per brillare in pieno giorno, veste di luce. Dianz, il collant certificato DIM. Portfolio, il gioco di Repubblica. Quest'anno si chiama Portfolio VIP. Bravo! Grazie. La tessera è in omaggio, nelle bustine di figurine, dei VIP di Forattini. Bravo! Grazie. E ancora più bello... Bravo! Grazie. Bravo! Ogni giorno ci sono... Bravo! Grazie. Ogni giorno ci sono... Ogni giorno, si diceva, Portfolio VIP mette in paglio due premi. Uno da 5 milioni e uno speciale da 3 milioni. Ma come? Due vincitori al giorno, allora? Bravo! Grazie. Portfolio VIP. Ogni giorno concede il bis. Bravo! Grazie. Johnny Walker presenta... Qui sta per scoppiare l'inferno. Seguiremo il colpo di Stato dal principio alla fine. Uno scoop eccezionale. Toglielo di mezzo e ti lascio libero insieme al tuo amico. Una rivoluzione. Un paese sul baratro dell'odio. Alla pariva! Periodista! Periodista americano! Dove la vita conta meno di niente. Faccio il fodono! Faccio il fodono! Faccio il fodono! Colpo di Stato. In prima visione domenica alle 20.30 su Odeon. Studiata dalla Cajiba per i rally più competitivi, Lucky Explorer, oggi in versione replica nelle classi 50, 125, 350 e 750, è pronta per scoprire con voi gli itinerari del nuovo mondo. Lucky Explorer, ti dà il gusto della libertà. Lucky Explorer. Tocca con mano l'evoluzione nell'idratazione. Sorgente panna. Il primo trattamento biattivo ai liposomi con acqua minerale panna. Sorgente panna. Classica. Moderna. Facile. Difficile. Poco. Tanto. Preoccupata. Tranquilla. Lavato. Pulito. Nel caso dell'erba, nuovo aria e il concentrato vi ha presentato la differenza fra lavato e pulito. Arrivederci al prossimo caso. Caro, ho voglia di una frittura di pesce. Alle tre di mattina. Basta, schizzi e cattivi odori. Oggi c'è Friggi Meglio, l'unica tra quelle di pari capacità che risparmia metà olio. Ho detto metà olio. Metà olio perché è l'unica friggitrice al mondo con cestello che gira. E le patatine? Lo sai che ai bambini piacciono tanto? Friggi Meglio dei Lombi. Leggerezza e sapore con metà olio. I denti del mio nonno fanno le bollissine. Efferdent. Cinque componenti attivi che puliscono a fondo la dentiera. Che bella invenzione questo Efferdent. Che bella invenzione i nonni. Efferdent. Igena e freschezza. Ogni giorno. Portfolio, il gioco di Repubblica. Quest'anno si chiama Portfolio VIP. Bravo. Grazie. La tessera in omaggio nelle bustine di figurine dei VIP di Forattini. Bravo. Grazie. E ancora più bello... Bravo. Grazie. Bravo. Ogni giorno ci sono... Bravo. Grazie. Ogni giorno ci sono... Ogni giorno si diceva Portfolio VIP mette in paglio due premi. Uno da 5 milioni e uno speciale da 3 milioni. Da come? Due vincitori al giorno allora? Bravo. Grazie. Portfolio VIP. Ogni giorno concede il bis. Bravo. Grazie. Il mare italiano è sempre il migliore perché... Pieno da donne. Sì. Culite qua, culite là. Veramente. I suoi pregi vanno esaminati da vicino e considerati nella giusta prospettiva. Ma è vista bello quella madre, devo farla voi capito? Così bella, così prosperosa, con quello sguardo ardente, quella bocca di fuoco che... Oh no! Bombolo, cannavale, Anna Maria Rizzoli. Una settimana al mare. Venerdì alle 20.30 su Odeon. Super Vapor Philips. Super Vapor Philips, stira con una sola passata. Super Vapor Philips, così delicato, con la potenza di un professionale. Galletto Valle Spluga, ideale per un'alimentazione equilibrata. Perché? Perché un galletto Valle Spluga di circa 450 grammi pronto per la cottura, cucinato allo spiedo alla griglia, dà in media 550 calorie. E da solo fa il menù. Nove, otto, sette. Sette, che cos'è? I sette samurai! I sette peccati capitali. A che piano? Al settimo. Al settimo cielo. I sette grandi. Le sette sorelle. Eh no, sette è il settimanale con il Corriere della Sera. Sette, gli articoli, le immagini, i colori. Lo trovi ogni sabato in edicola con il Corriere della Sera. Corriere della Sera più sette. Cosa chiedere di più? Like noise. Ciao, noi siamo Duran Duran. Ascoltate il nostro Big Thing a rete 105. Dove? Da coin. In giro per negozi. Ci chiamiamo SDA, il Corriere Espresso Nazionale. Siamo specialisti in spedizioni di documenti e piccoli pacchi da 0 a 15 kg. I nostri automezzi percorrono tutta l'Italia raggiungendo ogni giorno oltre 2000 località in 24 ore al massimo, applicando sempre la stessa tariffa. Attenti, è fragile. Rivolgetevi alle nostre filiali presenti in tutta Italia. Scoprirete perché siamo fieri di chiamarci SDA. SDA. Tempi migliori. Morbida mela. Morbida come mousse. Mousse di Sant'Ale. Mousse. Soffice banana. Soffice come mousse. Mousse. Delicata albicocca. Delicata come mousse. Mousse di Sant'Ale. Mousse. E da oggi anche cocco e pera. Due gustose novità. Gustose come mousse. Mousse di Sant'Ale. Frutta al cucchiaio. Mousse. Autofa vi offre. Parisi, l'uomo d'oro di Seul. Dove lo colpiresti, signor Berlusconi? Darei un montante a culi che è un gran giorno, basta. Fabio. Maurizio. Lascia stare lei, dai. Ma lascia stare lei. Scusa. Giochiamo con le biglie, dai. Secondo te, quanti hanno detto che il migliore è Ferlaino? Ancora. Tutto questo è Forza Italia. Non scordatevi l'appuntamento. Venerdì sera alle 22.30 su Odio. E per le vacanze? Si va in India. Uh, che bello, ci stiamo. E adesso ci offri un whisky? Certo. Civas? Ah, ottimo. È quello che preferisca. Ah, un goccio di Civas anche per me. Proprio un goccio. Purtroppo è quasi finito. Allora, prenoti anche per noi. D'accordo. Gentili, Paolo e Giovanna. Con i biglietti ci mandano un Civas. L'ho comperato anch'io. Meglio, così non rimaniamo senza. Già. Civas Regal. Il più regale dei whisky. Ah, però, è con la Super 5. A proposito, la Super 5 si può avere con un finanziamento fino a 7 milioni in un anno senza interessi. Correct. Grazie. Informate in Italia. Renault. Muoversi oggi. Anche finanziariamente. Classica. Moderna. Facile. Difficile. Poco. Tanto. Preoccupata. Tranquilla. Lavato. Pulito. Nel caso dell'erba, nuovo Ariel concentrato vi ha presentato la differenza fra lavato e pulito. Arrivederci al prossimo caso. Secondo voi, cosa ci potrà salvare da questa era tecnologica? L'espressività? L'immaginazione? Ricominciamo a comunicare. Basta un foglio di carta, una matita. E visual game. Gioca, giocate. Ad esempio. Io disegno un dito e tu indovini. Indovini che cosa? Che tra moglie e marito non devi mettere il chiaro, no? Quindi gioca, gioca, gioca perché la vita è un gioco. I denti del mio nonno fanno le bollissine. Efferdent. Cinque componenti attivi che puliscono a fondo la dentiera. Che bella invenzione questo Efferdent. Che bella versione, nonni. Efferdent. Igiene e freschezza ogni giorno. Portfolio, il gioco di Repubblica. Quest'anno si chiama Portfolio VIP. Bravo! Grazie. La tessera è in omaggio nelle bustine di figurine dei VIP di Foratini. Bravo! Grazie. E ancora più bello... Bravo! Grazie. Bravo! Ogni giorno ci sono... Bravo! Grazie. Ogni giorno ci sono... Ogni giorno, si diceva, Portfolio VIP mette in paglio due premi. Uno da 5 milioni e uno speciale da 3 milioni. Ma come? Due vincitori al giorno, allora? Bravo! Grazie. Portfolio VIP. Ogni giorno concede il bis. Bravo! Grazie. Mitsubishi, mi stupisi. Vi offre, se un giorno vi capitasse di sentire questo rumore. Cominciate subito a fuggire. Oddio, quanto vuole fare, Ernesto? Scappate senza fare domande. Perché alle vostre spalle potrebbero esserci loro. Non aprite quella porta a due. In prima visione domani alle 20.30 su Odeon. Tocca, tocca con mano l'evoluzione nell'idratazione. Tocca. Una goccia d'acqua non può penetrare. I liposomi con acqua minerale panna penetrano in pochi secondi. sorgente panna, il primo trattamento biattivo ai liposomi con acqua minerale panna. Crema, più gel, da miscelare prima dell'uso. Dalla ricerca più avanzata, sorgente panna. La scienza cosmetica si evolve. Tocca. Sanio. Video nel video. Guardi un programma. Controlli l'altro. Porti a tutto schermo l'immagine che conta. Questo è Sanio con Videodetector. Cambia con Sanio il tuo modo di guardare la TV. Sanio. I televisori con Videodetector. Revue. L'orologio svizzero di grande precisione diffuso in tutto il mondo. Controllate. L'orologio Revue è sempre esatto. Nervei. Concessionaria anche per Orologi Avion. Dai Martina, dai che ce la fai. Corri, 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 corri. Brava. Sono i primi passi. Ma guarda che impronte. Avevo appena lavato con la candeggina. Ma per sgrassare non basta. Perché non usi Acti? È la nuova candeggina igienizzante con detergente. Per questo toglie anche il grasso. Guarda. La suola è pulita. Ma qui lascia impronte perché c'è ancora grasso. Con Acti invece c'è igiene e tutto splende. E ora chi la ferma più? Acti. Igiene profonda senza impronte. E da oggi con profumo. Porfolio. Il gioco di Repubblica. Quest'anno si chiama Porfolio VIP. Bravo. Grazie. La tessera è in omaggio nelle bustine di figurine dei VIP di Foratini. Bravo. Grazie. E ancora più bello... Bravo. Grazie. Bravo. Ogni giorno ci sono... Bravo. Grazie. Ogni giorno ci sono... Ogni giorno si diceva. Porfolio VIP mette in paglio due premi. Uno da 5 milioni e uno speciale da 3 milioni. Ma come? Due vincitori al giorno allora? Bravo. Grazie. Porfolio VIP. Ogni giorno concede il bis. Bravo. Grazie. Secondo voi, cosa ci potrà salvare da questa era tecnologica? L'espressività? L'immaginazione? Ricominciamo a comunicare. Basta un foglio di carta. Una matita. E visual game. Gioca, giocate. Ad esempio. Io disegno un dito e tu indovini. Indovini che cosa? Che tra moglie e marito non devi mettere il... Chiarono. Quindi gioca, gioca, gioca. Perché la vita è un gioco. Marsiglie, serrentiti. Lo sappiamo che sei là dentro. Commissario, anche tu sei una vittima. Fa quello che ti pare, ma dobbiamo trovarlo. Anche tu sei nel mirino. Tu hai ucciso mio fratello. E io mi sono vendicato. Anche per te esiste il terrore della vendetta. Ecco le calibro 38. L'arma che mi avete richiesto. Quelli della calibro 38. Sabato alle 20.30. Su Odeon. Fra le facilitazioni di pagamento di un normale mobilificio e quelle di arredamenti di Eleonora, non c'è una differenza. C'è un abisso. Qui potete pagare come quando fa comodo a voi. Anche solo 150.000 lire al mese. Senza anticipo, senza cambiali o senza interessi. Altro che gli sconti dei normali mobilifici. E poi lo dice anche il proverbio. Via con le di mezzo 120, Pescara. Philips Personal Computer, MS-DOS compatibile. Potere personale. Dal singolo drive al potente hard disk da 40 MB, in configurazione aperte. Philips Personal Computer. Più frecce al tuo acqua. Computer Shop. Computer Center Philips, a Lanciano, in via Mario Bianco 6. Computer Shop, tutto per il tuo computer. Philips Personal Computer, a partire da lire 935.000, più IVA. Alla luce della convenienza, Selene, fabbrica lampadari nella zona industriale di Treglio. I meravigliosi lampadari in cristallo Swarovski, dai mille riflessi, con montatura in bagno d'orozechino, a partire da lire 140.000. Lampadari classici, dal gusto sobrio, con montatura in ottone in legno o bronzo in legno, a partire da lire 50.000. E gli affascinanti lampadari in vetro di Murano, li trovate a partire da lire 70.000. I prezzi sono accessibili a tutti. Il risparmio è anche del 50%. E ad attestare la qualità degli articoli, la ditta Selene rilascia un certificato di garanzia. Dai forma ai tuoi desideri, con soluzioni studiate appositamente per te. Sigla e panaccio, l'immagine del tuo buon gusto nell'arredamento. Grande concorso. Arriva l'uomo buta con la sua valigia d'oro. Aspetta l'uomo buta e se non arriva, chiamalo. Quando suonerà alla tua porta, sarà una festa. Puoi vincere premi di sogno. Una fiammante Fiat Uno Fire. Pellicce di Visone e di Volpe. Quattro Ciao Piaggio. TV Color. Corrè di casa. Corrè di bagno. Corrè di letto. Partecipare è un gioco. Per ogni acquisto degli splendidi corrè di buta, ti verranno consegnate una o più cartoline. Compilatele e speditele al più presto. Parteciperai alle estrazioni trimestrali. E alla superestrazione finale. Chiama l'uomo buta. Buta. I corredi d'Europa. A domicilio. Dal 2 novembre ad Orsogna, lasciati tentare dagli sconti Tenerelli. E sì, perché Tenerelli ad Orsogna, per apertura a nuovi locali dal 2 novembre, effettua una vendita promozionale con sconti del 30% sull'abbigliamento e del 20% su Pellice e Montoni. Tenerelli e ad Orsogna, e dal 2 novembre hai un'occasione in più. A domicilio. 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 Arpa Muoversi in libertà Lucky Explorer Il gusto della libertà Vi offre Tu hai molto talento Sono uno street dancer Breakdance Stasera alle 22.30 Per una serata a tutto ritmo Su Odio Zeffirelli presenta Bellice Annabella Un sogno Sì Una belliccia Annabella 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 solo a Pavia Johnny Walker Presenta Qui sta per scoppiare l'inferno Seguiremo il colpo di stato Dal principio alla fine Uno scoop eccezionale Toglilo di mezzo E ti lascio libero insieme al tuo amico Una rivoluzione Un paese sul baratro dell'odio Arpa riva Periodista Periodista americano Dove la vita conta meno di niente Faccio il podato Faccio il podato Faccio il podato Colpo di stato In prima visione domenica alle 20.30 Su Odeon Fra le facilitazioni di pagamento Di un normale mobilificio E quelle di arredamenti di Eleonora Non c'è una differenza C'è un avvisso Qui potete pagare come quando fa comodo a voi Anche solo 150.000 lire al mese Senza anticipo Senza cambiali O senza interessi Altro che gli sconti dei normali mobilifici E poi lo dice anche il proverbio Via con le di mezzo 120 Pescara Centro Scarpa è aperto a tutti i piedi Centro Scarpa è 40.000 paia di scarpe E nuove collezioni per lui Per lei e per il bambino Centro Scarpa è sport al miglior livello Superga, Puma, Nike, Adidas E direttamente dagli USA e Tonic, Converse e Sisley Centro Scarpa è aperto a tutti i piedi Centro Scarpa ti dà di più di tutti A meno di tutti Centro Scarpa è sulla strada statale 154 A Piazzano di Atessa, Chieti Centro Scarpa è grande È forte È aperto a tutti i piedi Volete trasformare un giorno di acquisti in un giorno di vacanza? Venite all'Interspar Scoprirete che oggi fare shopping non vuol dire correre da un negozio all'altro Nel più grande centro commerciale d'Abruzzo potrete scegliere, in tutta tranquillità, i migliori prodotti per voi, per la vostra casa, per il vostro tempo libero Nel vasto ipermercato alimentare o nella boutique di moda, nel magazzino standard o al ristorante, sotto il simbolo del grande albero, viene naturale trovare il meglio e il più conveniente Centro Commerciale Interspar, il più grande albero d'Abruzzo Alla luce della convenienza, Selene, fabbrica lampadari nella zona industriale di Treglio I meravigliosi lampadari in cristallo Swarovski, dai mille riflessi, con montatura in bagno d'oro zecchino, a partire da lire 140.000 Lampadari classici, dal gusto sobrio, con montatura in ottone legno o bronzo in legno, a partire da lire 50.000 E gli affascinanti lampadari in vetro di Murano, li trovate a partire da lire 70.000 I prezzi sono accessibili a tutti, il risparmio è anche del 50% E ad attestare la qualità degli articoli, la ditta Selene rilascia un certificato di garanzia Philips Personal Computer MS-DOS compatibile Potere personale Dal singolo drive al potente hard disk da 40 MB, in configurazione aperte Philips Personal Computer, più frecce al tuo acqua Computer Shop, Computer Center Philips, a Lanciano in via Mario Bianco 6 Computer Shop, tutto per il tuo computer Philips Personal Computer, a partire da lire 935.000, più IVA Se torna l'inverno, cogli la nuova moda Scegli il binomio che dà sempre al passo con i tempi A Casoli, la nuova moda è Capuzzi e Capuzzi Young Capuzzi e abbigliamento per ogni tipo di cerimonia Dall'eleganza più raffinata ai montoni e capi in pelle Per la donna, Max Mara, Armani e Marina Renardi Per l'uomo, Valentino, Corneliani e la nuova lina Corso Chiaro Capuzzi Young, è moda giovane firmata ed esclusiva Armani, Moschino, Gianmarco Venturi Per il tuo look, scegli un nome di prestigio L'originale a Casoli è Capuzzi e Capuzzi Young Dai forma ai tuoi desideri Con soluzioni studiate appositamente per te Sigla e panaccio, l'immagine del tuo buon gusto nell'arredamento